Il caso Don Spagnesi La bestia apre una nuova azienda in via Bologna, presente all'inaugurazione il ministro Orlando. Presentazione in grande stile per il tratto social club, che raddocca e scende in campo anche nel femminile. Buongiorno dalla nostra redazione. La parrocchia della Castellina sporgerà querela nei confronti dell'ex parroco Don Francesco Spagnesi. La decisione è stata presa dal vescovo, dall'amministratore parrocchiale Don Scaccini e dai consigli pastorali per gli affari economici della Castellina, dopo aver concluso la verifica degli ammanchi delle casse della parrocchia. La parrocchia dell'annunciazione alla Castellina sporge querela riguardo all'ipotesi di reato di appropriazione indebita a carico dell'ex parroco Don Francesco Spagnesi. Inoltre il vescovo Nerbini ha firmato il decreto canonico per le censure previste a carico del sacerdote, a cui vengono interdette la celebrazione della messa e degli altri sacramenti. In un incontro svoltosi alla Castellina, il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio parrocchiale per gli affari economici, riuniti congiuntamente alla presenza di Monsignor Giovanni Nerbini e dell'amministratore parrocchiale, nonché vicario generale della diocesi Don Daniele Scaccini, hanno stabilito di querelare il sacerdote a motivo del grave danno economico da lui arrecato alle casse parrocchiali. È un atto dovuto, si legge in una nota della diocesi, che vuole fugare oltretutto il sospetto che si possa impunemente infrangere elementari regole di comportamento e salvaguardare l'immagine del sacerdozio stesso. Il consiglio per gli affari economici ha verificato che negli anni 2019-2021 Don Spagnese ha effettuato dal conto corrente della parrocchia prelievi per una cifra che oscilla tra i 130.000 e i 150.000 euro. La quantificazione dei presunti ammanchi imputabili all'ex parroco è stata effettuata tenendo conto dei bilanci e dei giustificativi esistenti. Si tratta di una stima verosimile nella quale, però, potrebbero comunque rientrare prelievi legittimi finalizzati effettivamente alle necessità caritative della comunità. Monsignor Nerbini ha spiegato ai parrocchiani della Castellina che questo provvedimento non è disgiunto dal dovere della carità che il Vangelo chiede sempre verso chiunque e che questo non vuole disconoscere l'impegno pastorale che tanti parrocchiani riconoscono ancora oggi al loro ex parroco. Come detto, il Vescovo ha interdetto Don Spagnesi dalla celebrazione della Messa e degli altri sacramenti. Siamo ai dati del contagio da Covid. Sono 255 nuovi casi registrati oggi in Toscana. Il dato è stato anticipato sui social dal governatore Eugenio Gianni. I nuovi contagi sono in diminuzione rispetto a ieri, così come il numero dei test effettuati, pertanto anche il tasso di positività scende seppur di poco e si attesta all'1,4%. Sono arrivati proprio poco fa anche i numeri riguardo a Prato. I casi a Prato sono 17, purtroppo si registra anche un decesso, uno dei sei decessi a livello regionale. La Beste Raddoppia è inaugurata ieri la nuova azienda tessile dei fratelli Matteo e Giovanni Santi alla presenza del Ministro del Lavoro Orlando e dello stilista Brunello Cucinelli. E presto verrà rafforzata la sinergia con un imprenditore orientale che prevede l'apertura di uno stabilimento in zona Santa Lucia. È un messaggio di speranza e un invito a credere nel futuro quello che è uscito ieri dall'inaugurazione del nuovo Beste Hub, la seconda sede dell'azienda Tessile Beste dei fratelli Matteo e Giovanni Santi. Sei mesi di lavori per riqualificare l'edificio dell'ex lanificio Affortunati, non più in attività dal 1989. Un intervento di recupero filologico dell'antico opificio che diventa oggi luogo di lavoro e di incontro per la città. Probabilmente siamo più coraggiosi anche di altri che magari in questo momento di crisi, post pandemia, magari invece che investire cercano di moderare gli investimenti, di essere più cauti, di essere un po' più fermi su quello che loro vogliono fare. Noi al contrario cerchiamo di spingere, di andare avanti in questo settore che è quello dell'abbigliamento che pensiamo ci potrebbe dare e ci potrà dare delle soddisfazioni. L'evento di inaugurazione dal titolo Imprese Coraggiose ha visto portare sul palco l'esperienza dello stilista Brunello Cucinelli che ha invitato gli imprenditori a sostituire la paura con la speranza in questa fase storica di ripartenza economica e il contributo di Domenico De Angelis, codirettore generale di Banco BPM. Presente anche il ministro del lavoro Orlando che prima di arrivare al Best Hub ha visitato lo stabilimento di Cantagallo. Credo che vadano salutate con grande soddisfazione e vadano supportate vicende come questa, cioè di un investimento per riqualificare un patrimonio industriale produttivo che nel nostro paese è una parte della nostra storia e come tale un punto di forza anche per il futuro. E nelle prossime settimane sarà aperto un nuovo stabilimento in zona Santa Lucia in cui la Best rafforza la sinergia con un suo collaboratore e un confezionista di nazionalità cinese che produrrà in esclusiva per il marchio dei Fratelli Santi. Parliamo ancora di economia, di impresa. Aperto da oggi venerdì 1 ottobre fino al 29 ottobre il primo bando rivolto alle imprese di Prisma, la Casa delle Tecnologie Emergenti, sostenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e Comune di Prato. Obiettivo sostenere la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione congiunti tra università, centri di ricerca e imprese del territorio per lo sviluppo di nuove soluzioni basate sulle tecnologie emergenti e il 5G a favore del Tessile Moda e del Made in Italy. Le aziende selezionate non riceveranno direttamente finanziamenti ma potranno avvalersi delle risorse tecnologiche e umane messe a disposizione dalle realtà partner di Prisma. Info e contatti su www.prismaprato.it Siamo alla cronaca, hanno asportato vari oggetti e l'incasso pari a 400 euro che era conservato in un cassetto ma la loro fuga è durata poco. I due ladri infatti sono stati arrestati dai carabinieri di Iolo. È accaduto la scorsa notte ai danni dell'associazione sportiva La Baracca di Prato. I militari hanno bloccato i due responsabili dopo il colpo. Si tratta di un 19enne italiano e di un 39enne cittadino onduregno. A bordo dell'auto su cui viaggiavano sono stati trovati due pc portatili e un cellulare proventi di un altro furto avvenuto poco prima in un centro estetico. Rinvenuti gli attrezzi impiegati per il colpo e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Il 39enne tra le altre cose si trovava agli arresti domiciliari, pertanto è stato denunciato anche per evasione. Adesso i due si trovano in carcere. Cambiamo argomento, rassegne cinematografiche, mostre d'arte e iniziative ludico-sportive. Al via l'undicesima edizione del Mese dell'Affido. In programma anche l'inaugurazione di una panchina dell'Affido in Via Firenze. Torna con la sua undicesima edizione il Mese degli Affidi. Iniziativa volta a far conoscere alla città questo istituto giuridico, spesso ignorato frainteso. Coinvolgendo tutti i comuni della provincia di Prato, dal 2 al 28 ottobre sarà possibile conoscere il centro affidi della Società della Salute e le loro attività attraverso iniziative molto variegate, una rassinia cinematografica sul tema dell'accoglienza, performance teatrali e musicali, mostre d'arte e l'inaugurazione, martedì 19 ottobre, in Via Firenze all'altezza del playground della panchina dell'Affidamento Familiare. Durante la conferenza stampa, presentazione delle iniziative del Mese dell'Affido, il centro affidi ha fornito alcuni dati. Sono 122 gli affidamenti in corso ad oggi, contro i 116 registrati al 31 dicembre 2020. Da gennaio a settembre sono giunti al centro affidi 48 segnalazioni, di cui 10 riguardanti utenti italiani e 38 utenti provenienti da paesi stranieri, come Nigeria, Marocco e Cina. Le famiglie ancora disponibili ad avviare un affido sono 16, a cui se ne aggiungeranno presto altre 7. Un istituto in crescita dunque, anche grazie al risalto datogli dal mese degli affidi. Bisogna disseminare, bisogna informare correttamente le persone, e quindi questo mese serve a questo. È un lavoro work in progress, cioè dobbiamo continuare a farlo in modo veramente capillare. Necessari per partecipare agli eventi, la prenotazione al centro affidi e il Green Pass. Si tiene nel pomeriggio l'asta benefica per ricordare Luana Dorazio, la 22enne morta sul lavoro in una ditta di Montemurlo, lo scorso maggio, a aiutare il suo bambino. L'appuntamento è a partire dalle ore 17 e 30 presso Farsetti Arte, circa 200 le opere di artisti non solo italiani che verranno battute all'asta. Sarà possibile partecipare in presenza oppure live sulla piattaforma FarsettiArte.it. Con la fondazione Carlo Palli e FarsettiArte si sono mobilitate le istituzioni comuni di Prato e Montemurlo e provincia e un gruppo di imprese Club Service. TV Prato è media partner dell'evento. Compie un anno Fiori Lab, negozio di Viale Montegrappa, aperto in piena pandemia, specializzato nella tecnica giapponese del Kukedama. Guardiamo di cosa si tratta. Un negozio di fiori ma anche un laboratorio di flower design dove trasmettere l'amore per le composizioni floreali e la cura delle piante. Ha compiuto un anno Fiori Lab, l'attività aperta nel settembre 2019 da Daniela Malinconi e Monica Marcheschi. Le due socie, che condividono un'amicizia dai tempi della scuola, hanno iniziato a progettare l'attività a inizio 2020, quando hanno individuato il fondo di Viale Montegrappa. L'arrivo della pandemia e le forti conseguenze su un settore legato al mondo degli eventi e delle cerimonie non ha fatto cambiare loro idea. Avevamo deciso a gennaio 2020 di aprire questo negozio. Io avevo deciso. Poi la mia amica Monica ha deciso di gettarsi anche là in questa avventura. Durante il lockdown abbiamo progettato e deciso come avremmo voluto impostare il nostro negozio. Puntiamo molto intanto sui fiori. Abbiamo deciso di lavorare molto il fiore fresco. Ci occupiamo quasi esclusivamente di fiori freschi. E poi, come dama, le piante. Nel laboratorio di Fiori Lab, a partire dal lunedì 18 ottobre, si terranno dei workshop per piccoli gruppi su prenotazione per far conoscere le tecniche di decorazione e di composizioni con fiori freschi di stagione. Un workshop sarà poi dedicato all'antica tecnica giapponese del kokedama, con cui vengono coltivate le piante in vendita nel negozio. Kokedama è una tecnica giapponese. Kokedama vuol dire palla di muschio. Praticamente la pianta viene tolta dal proprio vaso e inserita in questa palla di terriccio, un terriccio particolare. Una volta formata la palla viene ricoperta con il muschio, poi la viene legata e la pianta è finita. Per custodirla, praticamente, deve essere annaffiata per immersione. Quindi è una cosina anche molto divertente da gestire a casa. Nei nostri prossimi workshop la proporremo anche, quindi le persone se vogliono possano venire al negozio e farsi la propria palla di muschio. Noi siamo allo sport, calcio e non solo per il Prato Social Club, protagonista quest'anno anche nel femminile, i particolari nel servizio di Massimiliano Masi. Il Prato Social Club è anche una squadra di calcio. Presentazione a Giardino Bonamici per la squadra maschile e quella femminile del Sodalizio Rosso Blu, che oltre al calcio ha al centro del proprio progetto anche iniziative sociali. Siamo al secondo anno di questa fantastica avventura e quest'anno avremo addirittura due squadre. Una squadra che militerà nel campionato di terza categoria, il campionato maschile, e invece una squadra che militerà nel campionato di promozione per quanto riguarda la squadra femminile. Il Prato Social Club però non è solo calcio, c'è anche qualcosa di più. Abbiamo una duplice valenza, oltre a quella sportiva anche un aspetto sociale e collaboriamo con delle associazioni del territorio, diamo un contributo reale e fattivo per dare una mano a queste realtà del territorio apposta con i nostri giocatori, con i nostri tifosi, con i nostri soci e anche con i nostri dirigenti che ci danno una mano ad aiutare queste associazioni. La squadra maschile che prenderà parte al prossimo campionato di terza categoria parte con ambizioni di vertice. Le ambizioni sono quelle sicuramente di figurare bene, di fare un campionato di vertice. I valori sicuramente sono buoni, però un anno e mezzo praticamente di inattività avrà sicuramente rimiescolato le carte per tutti. Arrabbiati per essere stati inseriti nel girono di Pistoia, perché? Perché si poteva fare meglio, secondo noi, come avevamo anche già richiesto nelle dovute sedi, fare dei gironi da 10-12 squadre sono un po' dei piccoli campionati, dei piccoli tornei, quando magari c'erano i numeri per fare dei gironi di 14 sulla provincia di Prato. Grande entusiasmo per la squadra femminile che ha una voglia matta di stupire nel prossimo campionato di promozione. L'obiettivo è uno di divertirsi, senza dubbio, per le ragazze, ma non nego di vincere, di provarci subito al primo anno. È un campionato che parte il 17 ottobre, però ci vede impegnati anche prima con la Coppa. Abbiamo iniziato la preparazione da poco, sinceramente, non è tanto, però il mister ci sta mettendo tanto impegno e anche le ragazze, sinceramente. Un bel affiatamento. Partiti quest'anno con ambizioni di costruire. Abbiamo una squadra mista tra giovani e ragazze esperte, quindi stiamo puntando a costruire per il futuro più che altro. Il Prato Social Club è pronto a lasciare il segno, in campo e fuori. E adesso le previsioni meteo, come sempre a cura del Consorcio Lamma. Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorcio Lamma. L'immagine satellitare ci mostra un'area mediterranea ancora per lo più sgombra da nubi. Si tratta di un anticiclone che tenderà però ad indebolirsi nel corso del fine settimana, per poi consentire il passaggio e una perturbazione tra domenica e lunedì. Andiamo a vedere le condizioni meteo attese. Per il pomeriggio sera di oggi, nuvolosità irregolare nelle zone interne, con possibilità di qualche isolato o breve acquazione sui rilievi meridionali. Venti deboli orientali, mari prevalentemente poco mossi, temperature ancora molto gradevoli per il periodo, intorno ai 24-27 gradi. In pianura, per quanto riguarda la giornata di domani, aumento della nuvolosità in mattinata, nubi di tipo medio-alto, senza precipitazioni significative, salvo qualche isolata pioggia possibile in arcipelago e lungo le aree costiere. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad intensificarsi, in particolare sui settori di nord-ovest e nelle zone interne, dove non si escludono locali rovesci. Venti che si disporranno a Scirocco, mari da poco mossi a mossi, temperature massime intorno ai 24-26 gradi. Uno sguardo infine alla giornata di domenica, in mattinata cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con piogge sui settori di nord-ovest, altrove isolati piovaschi, venti di Scirocco moderati, mari mossi, temperature minimi in aumento. Nel corso del pomeriggio ulteriore incremento della nuvolosità, soprattutto nelle zone interne, con possibilità di qualche isolato acquazzone o isolato rovescio. Sulla costa, temporanea attenuazione dei fenomeni, tendenza poi a peggioramento durante la notte di lunedì. venti moderati di Scirocco, mari fino a molto mossi a sud dell'Elba, temperature in ulteriori leve calo. Bene, con questo concluso, buona giornata a tutti. Concludiamo anche noi per questa edizione. Vi ricordiamo alle ore 17 in diretta dal Duomo di Prato, la recita del Rosario, a seguire la celebrazione della Santa Messa. Il Tg torna questa sera alle 20.30. Buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.